buongiorno a tutti e ben ritrovati da francesco gianfranco prezioso oggi vi voglio parlare un po del tracerotto perché ho diverse richieste di molti bassisti che mi chiedono appunto come si fa a controllare se un tracerotto funziona bene allora ho preso un sadosky perché il sadosky ha lo stesso sistema del music man è molto facile tirare o allentare l'anima d'acciaio che sarebbe questo che vediamo qui alla fine del manico allora qui abbiamo basta prendere in questo caso un piccolo giravite e vediamo se dobbiamo allentare il tracerotto basta girare in senso anti orario verso l'esterno se dobbiamo tirarlo perché il manico è troppo concavo bisogna tirarlo verso l'interno verso me in senso orario come facciamo a vedere se giusta l'altezza il tracerotto è concavo o convesso basta mettere il dito della mano sinistra sulla prima corda qui del manico spingendo quindi il fa e l'ultima nota qui sempre in fondo al manico eccola qui tenendo premute tutte e due si crea uno spazio tra le corde come potete vedere ecco qui cerco di farvelo vedere il meglio possibile questo spazio in pratica deve essere il più possibile vicino prima senza che farsi che le corde sbattino sui tasti dovrebbe passarci una carta di credito lo spazio che intercorre tra la corda e il tasto allentando il tracerotto in pratica l'anima d'acciaio aumenta ecco così aumenta vedete lo spazio tirandolo diminuisce perché si stringe raddrizza il manico e quindi diventa giusto ma spero di essere stato utile al almeno per far capire come funziona un tracerotto che sarebbe l'anima d'acciaio che dentro al manico buona giornata da francesco gianfranco prezioso ciao a presto a presto a presto a presto a presto a presto